hanno fatto come vedi 7,90 di esecuzione perché è stata un'esecuzione abbastanza sporca invece è uscito anche già quello della Germania è uscito quello della Germania che io adesso non vedo quindi la Germania batte la Bulgaria intanto occhio alla Spagna buona questa collaborazione brutta perdita di equilibrio durante la ginnasta buona 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 Ottima questa ripresa Carina molto Questa collaborazione Questa collaborazione Altra ripresa Buona esecuzione Gli errori che hanno fatto Li abbiamo detto in diretta Credo che avrà un punteggio alto Anche se devo dire che Rispetto a ieri Che avevamo trovato l'esercizio Della Spagna Questo è assai meglio No assai meglio Perché se non altro C'ha un po' di lento veloce Però anche questo è un po' monotono Un po' più vario Ma anche perché secondo me Gli attrezzi si prestano Col fatto anche che sono due attrezzi diversi La varietà Già solo il fatto che si scambino Due attrezzi diversi Dà più varietà Però devo dire che ad esempio Lo vediamo No questo è l'unico Ecco c'è tanto tanto poco Lavoro di clavette Nel senso loro molto spesso Con le clavette Le girano poco Così le tengono molto in mano Adesso abbiamo visto Una ripresa al volo Sì Devo dire Mi era s*****a